Silvano, la parola fine non c'è ancora perché la parola fine credo sia già utile ufficializzarlo, sarà il 10 settembre con le premiazioni, però questo concorso che ha coinvolto tutto il territorio, soprattutto gli under di questo territorio, ha visto la conclusione con le classifiche finali? Direi proprio di sì, oggi è arrivato anche il verdetto della giuria che fondamentalmente ha confermato quello che era il risultato del voto online e quindi sappiamo che ha vinto il concorso Apriti e Sesamo finalmente, insomma certo è stata una cosa difficilissima, a parte gli sponsor di chi ha disegnato e a parte tutti quelli che fortunatamente hanno partecipato proponendo i disegni, anche votando e invitando a votare gli amici, devo dire che è stata una scelta difficilissima, io non avrei saputo scegliere perché io avrei fatto vincere tutti, purtroppo non è possibile, qualcuno deve vincere un po' di più, però io ci tengo a dire che tutti quelli che hanno partecipato secondo me meritavano di vincere perché hanno fatto delle cose veramente bellissime. Quindi oggi stesso sarà, comunque ne abbiamo, 13 agosto sarà comunicato ai vincitori il risultato del concorso, ricordo che la premiazione sarà il 10 settembre con modalità ancora di finire, comunque nel piazzale della Rosa, spero con una festa che premi non solo chi ha vinto ma anche tutti quelli che hanno partecipato, e poi insomma vedremo, stiamo organizzando e vi faremo sapere. Facciamo un passo successivo, il passo successivo è la beneficenza che avevate nel momento iniziale lanciato a favore dell'associazione per vincere domani e che cosa bisogna fare perché questo bottino diventi più alto? Il fine poi ultimo di questo concorso era anche quello di raccogliere un po' di fondi da mettere a disposizione di un'associazione locale, la scelta è caduta per vincere domani che si occupa di assistenza oncologica qui in ospedale, tutti i disegni sono stati messi in vendita e oggi ne abbiamo venduti circa il 15%, ce ne sono ancora tanti, naturalmente io chiedo a tutti di partecipare numerosi, di fare la vostra offerta, l'offerta è libera, oggi li abbiamo venduti da 10 a 50 euro l'uno, che è un bel risultato, speriamo di raccogliere una discreta somma da donare. In settembre, le prime tre settimane di settembre, i giorni di mercato, ci sarà anche il banchetto in piazza piccola che vende, se ce ne sarà rimasto qualcuno, sarà lì disponibile per l'acquisto. Nel frattempo potete telefonare o passare qui da noi per prenotare la vostra opera, che sono tutte qui a disposizione per essere ritirate.